Rilasciare la salsa di cioccolato e zuccherini! Rilasciare la ciancla! Non possiamo mangiare quello che vogliamo, non possiamo giocare quando vogliamo. Non possiamo mai fare niente. Perciò dobbiamo reagire, organizziamo una rivolta, smettiamo di aiutarla con le faccende. No, a meno che tu non voglia la ciancla. Sergio, hai ragione. Sì, sono le cianclas. Sono la fonte del suo potere. Se riuscissimo a liberarcene, Abuela non sarebbe più in grado di controllarci. Ha ragione lui. Nessuno ci ha mai pensato finora. Ci dobbiamo provare. Luci spette. Le cianclas sono mie! Le cianclas sono scomperse! Ora possiamo fare tutto quello che vogliamo. Perciò domani noi potremo vivere il giorno più bello di sempre! Buongiorno, Abuela. Colpisci, Sergio! Che stai facendo, signorito? Sto semplicemente condendo le mie uova. Oh, già. Non ho trovato le mie cianclas stamattina. Oh, beh. Non importa, amico. Mangia pure le tue uova con la panna. Sono comunque due alimenti nutrienti. Qualcuno ha visto il mio... Quello è il mio gel bava di cammello! E quella è la mia scorta di dolcetti! È ora di volare! E quello è il falcon! Lo sai che nessuno lo deve toccare! Niente cianclas! Niente regole! Falcone! Abuela! CJ, Carlitos, Abuelo e Lalo hanno preso le mie cose e hanno distrutto il mio pupazzo di alfalcone! Perché non vai a rompere uno dei loro giocattoli? Ehi! Perché state saltando sul mio letto che mi è preso? Fuori dalla mia camera! Non è un letto! È un trampolino! Genze! Ho trovato i soldi di Tom! Devo fuggire da questa faldina! Togliti di mezzo, fiscoletto! Finalmente un po' di pace e tranquillità. Ehi, amici uccellini! Potreste andare a divertirvi da un'altra parte! Ho davvero bisogno di dormire! Che dici? Vuoi alzare la musica? Ok! Quella è la mia console da DJ! Molla! Queste giorni con la polla? Ok! Sì! Che cosa ho combinato? Devo correre a riportare le cianclas ad Abuela! Lei può sistemare ogni cosa! Le ho prese! La festa è finita! Ridarci le cianclas! Ridarci le cianclas! Ridarci le cianclas! Ridarci le cianclas! Coraggio, cianclas! Fate il vostro dovere! Cianclas! Qualcuno gradisce un frullato di cianclas, famiglia? Cianclas 1! Cianclas 2! Vi diciamo adios! No! Tornate, cianclas! Tornate, vi prego! Un attimo! Era solo un sogno! Meno male! Sanno di piedi! Ehi, fate i bravi! Abuela sta cercando di servire la colazione! Cosa? Visto, mio? Non serve il potere della ciancla per farti comportare da bravo, ragazzo! La bontà e la giustizia già ti appartengo! Oh, ok! Ecco qui le tue cianclas, Abuela! Grazie, Carl! Ce penso io! Ha! 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 Grazie a tutti